Allora, diciamo che la diversità di vedute è un elemento che è normale, fisiologico nel dibattito politico, non saremmo forze politiche diverse, non dovremmo trovare sintesi continue, tanto nella maggioranza che nell'opposizione che nel rapporto fra maggioranza e opposizione. Quindi, allora, mi verrebbe da pensare che forse se questa rottura che è avvenuta all'interno della maggioranza con la, diciamo, fuoriuscita di rete fosse dovuta a una diversità di vedute, probabilmente il dibattito sarebbe stato anche molto più semplice e probabilmente forse oggi avremmo anche parlato un po' di contenuti, no? Perché poi alla fine ci si chiede, ok, dove la vediamo diversamente, cioè cosa volevamo fare che non è stato fatto, ma sul piano concreto, pratico, non diciamo parlando per massimi sistemi. Poi però, chiaramente, quando il dibattito, ahimè, cade in quella che è purtroppo una deriva ormai con la quale abbiamo imparato a convivere, no? E che poi, ahimè, forse un pochino ha contribuito proprio il movimento rete fin dal 2012 a introdurre in quest'aula portando degli elementi di discussione che forse erano più rivolti alla pancia delle persone che non alla testa delle persone. E allora cadiamo nella demagogia, cadiamo nella demagogia, allora si dice che la rottura avviene perché noi siamo i bravi, gli altri sono i cattivi, loro sono clientelari, loro sono attaccati al potere, loro sono attaccati alle logiche di governo. Noi siamo bravissimi, animati dalle migliori intenzioni, siamo perfettibili, ma comunque perfetti nel nostro modo di fare politica e quindi di conseguenza queste sono le motivazioni. Allora, questo è, credo, l'esempio, ma ne potrei citare centomila, di come delle volte noi discutiamo i temi in quest'aula, con questa logica. La colpa è sempre degli altri, quando le cose vanno male. I meriti sono sempre i nostri, quando le cose vanno bene. Allora, qui ci vuole forse un pochino di ordine nei ragionamenti e cercare di capire come nascono e come si evolvono le cose. Allora, innanzitutto il mandato per la formazione di questo governo l'ha ricevuto la democrazia cristiana. Siamo tutti d'accordo? Il mandato l'ha ricevuto la democrazia cristiana che è stato il primo partito che, possiamo dire, ha ricevuto il maggior consenso e si è assunta la responsabilità di formare una coalizione di governo. Nessuno obbligava la democrazia cristiana a lavorare un progetto per una maggioranza così allargata. Potevamo anche scegliere una maggioranza più contenuta. Evidentemente in quel momento, per i motivi che abbiamo spiegato all'aula tante volte, si è ritenuto ricercare una condivisione più ampia, allargando a un numero maggiore di partiti e anche rompendo degli schemi che obiettivamente abbiamo rotto. Perché anche per la democrazia cristiana impostare un ragionamento politico corretto è stato un superare una barriera. Poi che cosa è successo? È successo che è arrivata l'emergenza, la pandemia che ha un po' anestetizzato un po' tutto, forse, ha creato uno scombuglio, diciamo, nell'attività politica, ha cambiato tutte le priorità e poi siamo tornati alla normalità. Dove, ahimè, che cosa è venuto fuori secondo me? È venuta proprio fuori quella divergenza, divisione sul paese che forse nella fase iniziale di formazione del governo, dove c'era comunque un senso di comunanza fra DC e Rete in modo particolare, gli altri partiti che compongono la maggioranza su quelle che erano le priorità di intervento e le cose da fare era più, diciamo, più celato, ma che poi è emerso sui provvedimenti pratici. Allora, qui il problema, la mancanza di coraggio, la mancanza di coraggio la puoi leggere in tutti i modi, no? Allora, la mancanza di coraggio è non fare abbastanza per combattere la criminalità e le infiltrazioni malavittose. Apro e chiudo parentesi, tutto poi, questioni di cui discuteremo, che non sono sospese perché sarà un qualcosa che ci faremo carico di portare in discussione anche in questa aula sulla base delle risultanze, anche degli organismi che abbiamo istituito proprio in collaborazione con i colleghi di Rete. Ma il senso di responsabilità a cui noi, perlomeno parlo per il mio partito, ci sentiamo chiamati, non è il senso di rimanere seduti sulle poltrone ad ogni costo, il senso di responsabilità a essere fedeli al mandato che ci hanno dato i cittadini di formare un governo, di governare questo paese ovviamente laddove ci sono le condizioni politiche per farlo. E questo è quello che noi stiamo cercando di fare. E guardate che è molto facile, e l'abbiamo detto mille volte, alimentare la protesta piuttosto che costruire il consenso sulle progettualità. Questo è un problema che è sempre stato così. E ci sono anche delle forze politiche che hanno cambiato questo approccio anche nell'opposizione. Adesso se penso alla legislatura 2012-2016 dove c'era una certa assomiglianza, quantomeno negli interventi, nelle posizioni, quella volta fra Rete e Civico X, evidentemente anche in una parte forse di quella che poi è diventata adesso punto SM, poi evidentemente sulle progettualità con le esperienze di governo si cambia anche un pochino di visione. Credo che l'esperienza di governo, e su questo hanno ragione, secondo me i consiglieri che sono intervenuti prima di me e hanno detto credo che l'esperienza di governo abbia in qualche modo logorato il movimento Rete, mi dispiace dirlo, ma non è colpa né della DC né degli altri partiti di maggioranza. Questo ovviamente è un problema che è emerso nel far fronte probabilmente a un tipo di ruolo che non era adatto in quel momento al movimento Rete. Non diamo la colpa di questo ribaltando la frittata sugli altri alleati di governo. Non diciamo che chi rimane, rimane per le poltrone o perché è attaccato alla logica del consenso e alla logica elettorale, quando sappiamo benissimo che questa è perfettamente un'operazione elettorale, sulla quale sperate di trovare una rivitalizzazione prima del prossimo turno elettorale. Guardate, la DC converrebbe andare alle elezioni domani, converrebbe, da un punto di vista elettorale. Però dal nostro punto di vista, considerato anche il poco tempo che manca al fine della legislatura, il nostro senso di responsabilità ci porta a dire che dobbiamo cercare di provare, almeno portare a casa quei traguardi che ci siamo previssati e, ripeto, l'accordo di associazione non è sicuramente l'unico, che in questo momento, più che creare... Di risoluzione delle criticità rappresenterebbe, come ho detto in conferenza stampa, un problema di perdita di opportunità. Permettetemi di dire che, e concludo, l'esperienza di governo, almeno dal mio punto di vista, non è stata un'esperienza fallimentare con i colleghi di rete. Abbiamo condiviso, io parlo perlomeno per il rapporto con i segretari di Stato, abbiamo condiviso momenti difficili, momenti particolarmente anche tesi, dove ci siamo anche supportati vicendevolmente, perché bisogna essere onesti, ci siamo anche consigliati e qualche volta abbiamo anche fatto cambiare idea l'uno all'altro su certe impostazioni. Credo che questa scelta sia stata una scelta, ahimè, troppo frettolosa e dispiace, dal mio punto di vista, che dall'altra parte, anche nell'intervento dei colleghi, questo sì mi dispiace, non sia stato per nulla menzionato il lavoro e l'attività, almeno su un piano umano, che è stato portato avanti nell'ambito della collegialità del governo. Credo che chi è stato al governo sa che bene o male in quel contesto c'è un ambito di collaborazione che va a volte anche al di là degli schemi e delle logiche della politica. Però ormai siamo abituati anche a questo e evidentemente un giorno va tutto bene e il giorno dopo si rimette in discussione tutto. Grazie, eccellenza.